Sarebbe stata la rabbia di una dipendente, assunta a tempo determinato e poi licenziata a mettere nei guai le quattro suore dell'Ordine di Santa Elisabetta, per i quali il PM di Arezzo Giulia Maggior ha chiesto il rinvio a giudizio. Truffa e truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea sono le accuse per le religiose. Secondo la procura di Arezzo, le suore infatti avrebbero destinato alle strutture convenzionate, una nel centro storico Aretino, una Policiano ed infine una Prato Vecchio Stia, pacchi di alimenti destinati ai poveri ricevuti attraverso fondi europei per l'aiuto agli indigenti. Una vicenda emersa da un controllo della Guardia di Finanza Aretina, le indagini delle Fiamme Gialle sarebbero partite a seguito di un esposto querela presentato dalla ex dipendente, assunta con un contratto a termine ma che aveva continuato a lavorare nella struttura di via 20 Settembre anche dopo la scadenza. La donna avrebbe voluto un contratto a tempo indeterminato e proprio per questo si sarebbe rivolta agli inquirenti. Alla fine la dipendente è stata licenziata qualche mese fa nell'ambito di un ridimensionamento del personale e le suore, come ormai noto, sono state indagate. Le quattro religiose, due italiane e due indiane, hanno sempre respinto ogni accusa tramite il loro legale, hanno anche presentato una memoria difensiva. Il GIP del Tribunale di Arezzo adesso dovrà decidere se le quattro suore dovranno affrontare il processo. La merce, sequestrata dalle fiamme gialle, aretine, pasta, olio e pomodori pelati e riso, per un valore di circa 8 mila euro, è stata poi dissequestrata dalla procura di Arezzo e data alla Caritas.